Qui vi presentiamo le 5 migliori zanzariere elettriche. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Gardigo, zanzariere elettrica. Le luci dei pesticidi leggeri UB sono un'opzione a basso costo e innocua per mantenere lontani i parassiti volanti insetti, falene, mosche, vespe, ecc. La zanzariere elettrica è un dispositivo che attrae insetti e anche insetti volanti moscerini, mosche e anche molti altri, grazie alle lampade a luce ultravioletta, in direzione di te e poi annichilirli attraverso l'elettrificazione, uccidendo. Questa anti-zanzara è davvero conveniente in termini di assunzione di potenza. Solo 16 W con un'attività grande ed è... Passando al numero 4. Argonotto la Mosquito Killer in Alluminio. Con il suo design felicemente migliorato, questo fantastico pescato per insetti è realizzato con una struttura in alluminio con terapia antigraffio. Si tratta di una versione stupita arredata con due lampade UBV A68W, che garantiscono una vita media di circa 8-10.000 ore. Gli attributi tecnologici dell'apparecchio sono rifiniti dal trasformatore magnetico e dall'armadio rimuovibile sensibile. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Ecd Germany Zanzariera Elettrica 20 Watt. La luce degli insetti attira tutti i tipi di parassiti volanti, come mosche, falene o zanzare con raggi UBV direttamente nella rete metallica estesa e li elimina con l'aiuto di una scossa elettrica. Questa rete elettrica per insetti presenta uno stile elegante e moderno. Una griglia a goccia in acciaio inossidabile è estremamente affidabile e anche sicura. I raggi ultravioletti appositamente progettati raggi ultravioletti sono sicuri sia per il corpo che per gli animali domestici. Grazie all'armadio funzionale, è possibile lo svuotamento di base e pulito del utensile. Almostat è top of our list at number 2. K Kemper Group ZAP 20 Elettro Insetticida. Realizzato in un'elegante tonalità argento, questo insetticida a scarica elettrica si integra facilmente in qualsiasi atmosfera. Funzionale in ambienti di circa 80 mq, ospita due luci azioni che dà 10 W nella sua struttura. Il suo armadio per la raccolta degli insetti può essere estratto con un movimento di base, consentendo così di eseguire le procedure di pulizia in modo rapido e conveniente. Viene fornito totale con catena di sospensione. E infine il numero 1 della nostra lista. L'Inki 6 6 8 9 3 11 Fly 16 Stermina Insetti. Questo versatile pesticida elettrico a scarica fornisce una protezione sostanziale contro tutti i tipi di parassiti. Sviluppato per uso interno, è dotato di due lampade UBA, ognuna da 8 W, ed è affidabile in una posizione coperta di 50 m². Definito da uno stile necessario e portatile, ha una dimensione di 34 x 9,5 x 26 cm e valuta 2,4 kg. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.